Oggi ho portato la nostra esperienza come città di Savona per contribuire allo SPRAR per minore stranieri non accompagnati a livello distrittuale. È un'esperienza che abbiamo iniziato e nell'arco di un anno circa abbiamo concluso la progettazione, progettazione che abbiamo presentato ai primi di ottobre al Ministro Minniti. Questo ci permetterà di avere tre centri SPRAR per 30 minori stranieri non accompagnati. È importante per noi perché siamo comuni in predissesto in questo modo possiamo liberare risorse per il sociale, circa 330 mila euro che adesso dobbiamo destinare ai minori stranieri non accompagnati che arrivano sul nostro territorio.